Il mio aforisma per presentare la Dieta Com, ovvero la Cronomorfo Dieta, è nasciamo come siamo e diventiamo come mangiamo. Praticamente vuol dire che noi nasciamo con il patrimonio genetico datoci in eredità dai nostri genitori, ma diventiamo in realtà come l'influenza epigenetica agisce modulando l'espressione dei nostri geni. Cioè, quietenziandone certi e semmai invece esprimendone degli altri. E tra i fattori epigenetici più importanti, ovviamente, è l'alimentazione. Però in realtà, piuttosto che dire diventiamo come mangiamo, avrei dovuto dire diventiamo come assimiliamo, perché è indubbio che un alimento, per poter esercitare a pieno la sua funzione epigenetica, deve essere assorbito e assimilato completamente. Questo discorso, ovviamente, vale a maggior ragione per gli integratori, che devono essere, appunto, per poter esercitare i loro effetti positivi, per i quali vengono spesso propagandati, prescritti, pubblicizzati, devono essere assimilati nella maniera migliore. E questo non sempre avviene. A me è capitato, per esempio, di acquistare negli Ugoza delle compresse di multivitaminici, multiminerali, a dosaggi elevati, perché in America ci sono delle concentrazioni di vitamine minerali permesse nettamente più alte di quelle italiane, e quindi, avendo acquistato questi integratori sotto forma di mega compresse, mi sono però poi ritrovato a vedere queste compresse praticamente intatte nelle feci. E quindi vuol dire che non venivano di sicuro assorbite. Io, personalmente, quando devo prescrivere un integratore, mi sincero se quell'integratore, cioè se quel principio attivo, esiste anche sotto forma di spray o oro solubile. Questo perché l'assorbimento a livello sublinguale è senz'altro migliore che non invece la somministrazione orale ed eventuale assorbimento intestinale. L'assorbimento sublinguale ha il punto bypass alle varie problematiche legate a un malassorbimento eventualmente a livello intestinale e in più ha anche il vantaggio di essere più rapido. E quindi, soprattutto quando si vuole avere un'efficacia un po' immediata, è importante somministrare un integratore a livello sublinguale. E per certe sostanze, si addirittura ha visto che la biodisponibilità di un integratore, di una sostanza assunta a livello sublinguale, è sovrapponibile praticamente alla somministrazione endovenosa. Quindi, capite, è particolarmente efficace. Un tempo si pensava che poche sostanze fossero assorbibili a livello sublinguale, poi invece si è visto che in realtà molte sostanze lo sono. Prima si pensava che solo piccole molecole a basso peso molecolare potessero essere assorbite. Invece man mano si è visto che anche molecole più grandi possono essere assorbite. Pensate che addirittura adesso è in via di studio, di approvazione, addirittura l'insulina sublinguale. E l'insulina è una sostanza polipeptidica composta da circa 51 aminoacidi. E quindi è praticamente una proteina, quindi non è una sostanza particolarmente piccola. Ovviamente, qualora invece si volesse avere un effetto retard, allora la somministrazione via orale è quella più indicata. Però in questo caso bisogna tenere conto del rischio di non un buon assorbimento, di non un'ottima assimilazione di questi integratori nel momento in cui vengono assunti in maniera orale. E allora è opportuno, senza dubbio, poter potenziare la biodismedità di queste sostanze. E normalmente vengono utilizzati dei sistemi, delle tecnologie, quali per esempio l'aggiunta della piperina, che aumenta l'assorbimento a livello intestinale, la preparazione sotto forma liposomiale, che anch'essa facilita l'assorbimento a livello intestinale. Ma oggi volevo parlarvi di un'altra tecnologia, una nuova tecnologia che migliora sia l'assorbimento, migliorandone quindi la biodispidilità, ma migliora anche il metabolismo stesso di questi principi nutritivi. Questa metodologia utilizza dei funghi e dei batteri che sono fatti crescere in un liquido di cultura arricchito di vitamine e amminoacidi essenziali. Poi, praticamente, i microorganismi vengono eliminati dal liquido di cultura che viene essiccato, eliofilizzato, e trasformato in una polvere che, praticamente, a questo punto contiene vitamine, amminoacidi essenziali e, in parte, ancora batteri, però in un numero compatibile con quello che deve essere presente in alimenti e integratori secondo le normative. Ebbene, questa tecnologia, che si chiama MEDIS, è appunto in grado, tramite questa sinergia tra i probiotici, i miamiocidi essenziali, le vitamine e il principio attivo che viene veicolato insieme a questa polvere eliofilizzata, è appunto in grado di aumentare l'effetto metabolico e la biodispidità di questa sostanza. Quindi, ancora una volta, questo è il caso in cui le sinergie sono particolarmente efficaci.